Coutolo carica al sinistro, la magia di Coutolo, ma dove va in vantaggio? Al 31esimo, che gol ha fatto? Italiano in mezzo al campo in anticipo su Jonatas, palla rischiosa di legati, Portin sbaglia tutto, Jonatas in area di rigore, Jonatas, il pareggio del Brescia, Jonatas, il gol numero 4 è il campionato, 1-1. Coutolo, ancora Coutolo, largo legati, Coutolo fa tutto da solo, prova ancora col sinistro, Coutolo, Coutolo in area di rigore, Coutolo! Un gol pazzesco di Coutolo, la doppietta! Tanti problemi!